Gente che parla di acqua, proprio così, con il nostro ospite Giorgio Cusin. Buongiorno Giorgio, riflessologo, operatore shiatsu e molte altre cose, autore anche di un libro che presto vedrà la luce dedicato all'acqua. Noi siamo fatti d'acqua, il nostro mondo è fatto in gran parte di acqua, molto spesso non vogliamo nemmeno bagnarci i piedi per non inzaccherarci i pantaloni. Come ti è venuto in mente l'idea di scrivere un libro sull'acqua? Ma diciamo ci sono più, sicuramente più motivi, uno in particolare perché dopo l'aria credo sia l'elemento che più mi fa sentir vivo e quindi a volte faccio delle cose nell'acqua tipo piscine o al mare dove mi isolo un po', nel senso che alcuni pensano che io lo faccia per esibizionismo, in realtà io ho proprio bisogno di quel tipo di contatto, tipo stare sott'acqua. Sei un pesce? No, non nuoto come un pesce però mi piace molto. Un pesce di nome Giorgio Cusin. Sì, anziché banda. Tratto da un famoso film, quindi aria, acqua, terra e fuoco. Diciamo che l'acqua è un elemento importante nella tua vita. Assolutamente sì, non ce ne rendiamo conto, lo è per tutti, solo che non abbiamo neanche la cultura di alcuni aspetti della nostra vita e quindi certe cose le diamo per scontate, scontato è una delle parole che io meno sopporto, mi piace solo in un caso, quando ci sono i prezzi, il resto è tutto possibile. Noi diamo per scontato anche l'acqua da bere, in realtà acqua, fiume di vita è proprio il titolo del libro che presto vedrà la luce e che ha anche un'iniziativa benefica, lo bisogna sicuramente mettere in evidenza, è vero? Guardate che belle gocce d'acqua che ci sono in questa prova di copertina. Sì, quella è una foto che ha fatto la Marilena Florio, che è un'amica carissima, una grafica pubblicitaria che per me è uno spettacolo vivente, quindi ha dei numeri veramente vanno inoltre. Era realizzare qualcosa per me, quindi un mio progetto e poi c'era l'altro grande obiettivo che era quello dei, inizialmente quello dei pozzi in Africa. Poi questa cosa per qualche ragione non si è sviluppata, ho parlato con la dottoressa Beva, che è il presidente di queste associazioni volontari nel mondo, che insieme ad altri volontari ha messo su un orfanotrofio, un posto in Nepal dove accolgono i bambini abbandonati, li fanno crescere e li aiutano poi a inserirsi nel mondo del lavoro, quello poco che ci può essere là e loro hanno già con circa 1300 Euro comprato 4 pompe che tirano sull'acqua dalle falde, che vanno giù circa 7 metri, quindi non occorrono grosse cose e hanno dato la possibilità a un villaggio intero di avere l'acqua disponibile sempre, anziché andare con i secchi ogni volta a un fiume. Perché hai scelto proprio questa associazione? Naturalmente quando si parla di acqua, regalare con i proventi del libro una pompa d'acqua ai bambini del Nepal è evidente che si tratta di un'idea fantastica, straordinaria, ma perché hai scelto proprio volontari senza frontiere? Prima vorrei fare una premessa, ogni libro che viene venduto una parte di quello che spetta a me, quindi io non chiedo nulla all'editore di mettere dei soldi per questo progetto, a meno che lui lo voglia fare ed è bene accetto ovviamente, le porte sono perde, però semplicemente quello che è il mio, il mio pezzo, una parte di questo pezzo viene devoluto a questa associazione, innanzitutto perché è una carissima amica, perché è una persona che si sta lottando da tantissimo nel sociale, ha messo su questa associazione incredibile con dei volontari che sono giù quasi gratuitamente, italiani, che seguono questi progetti e praticamente i bambini che li trovano per strada, perché le famiglie ne hanno tanti, li abbandonano, loro li accolgono, li fanno studiare, gli danno da mangiare, da dormire, da vestire e poi una volta che diventano grandi, molti rimangono lì perché non hanno una famiglia e ho visto le diapositive, poi la conosco, so quanto fa per gli altri e quindi quando ho proposto a lei questa cosa lei è stata contentissima e quindi fatta. Il libro non c'è ancora ma presto lo avrai, l'editore non c'è, è dietro l'angolo, comunque l'idea di dedicare questo libro all'acqua con la beneficenza annessa credo che sia un'idea che un editore un po' astuto dovrebbe sfruttare senz'altro, no? Ma l'editore in questo momento, un editore sta valutando il progetto, sa di questo progetto nei dettagli, conosce le cose e quindi io spero che accetti. Sì, sì, ma ti darà una risposta breve, positiva, speriamo. Io credo proprio di sì, che sia fattibile, ci credo non tanto di più, io quando ho un obiettivo in testa arrivo fino a che non è realizzato, non mollo, quindi... Bene, fai bene. Giorgio di cosa parla questo libro sull'acqua? Perché il mare magnum dell'acqua è davvero immenso. Ma io ho cercato di mettere giù le cose che pensavo potessero interessare un po' a tutti, quindi c'è di tutto dentro. L'acqua legata alla... ecco, questi sono i bambini proprio di quel villaggio, queste sono le pompe che sono state messe in questo villaggio, sono indiane, quindi c'è un simbolo strano su se uno lo guarda nel dettaglio, però assicuro che arrivano dall'India. Quindi l'acqua e il battesimo, la morte, la nascita, l'alimentazione, c'è di tutto, il delfino, l'idroterapia. Ho cercato di inserire vari argomenti che potessero interessare un po' tutti. Ci sono delle domande sull'acqua, il perché, perché un iceberg galleggia, perché l'acqua del mare è blu, e poi relative risposte ovviamente. Ci sono canzoni, poesie, tipo una poesia di Alda Merini, delle canzoni che riguardano me, in particolare, ma sono anche un po' scherzose. Ogni pagina ha all'inizio un proverbio e alla fine un aforisma per ogni argomento, quindi che sia l'idroterapia, che sia l'urinoterapia, i numeri, la numerologia, i tarocchi, cioè l'astrologia, il sonno. È legato a tanti argomenti. È legato a tutti gli aspetti della nostra vita. L'acqua come benessere, e non mi dovrebbe sorprendere, perché Giorgio Cusine lavora insieme al nostro amico Orlando Volpe, e i due insieme hanno realizzato, tra gli altri, anche questo manuale di stretching shatsu. L'importante è arrivare al benessere, non importa con quale mezzo, l'acqua è un ottimo mezzo, per esempio. Assolutamente, sì. Se uno la conosce, non la evita, ma la accoglie, quindi è un gran bel mezzo da utilizzare. Ce l'abbiamo sempre, ad esempio c'è un argomento, è come utilizzare, alcuni consigli per utilizzare al meglio l'acqua. Quindi, non so, quando ci si lava i denti... Anche per risparmiarla? Assolutamente, sì. Quando ci si lava i denti puoi chiudere, nel frattempo chiudere il rubinetto, quando ci si fa la barba con la lametta, la stessa cosa, no? Sono piccole cose. La doccia, la doccia, anche. E quindi sono piccoli accorgimenti che però nel tempo diventano grandi e diventano oceani. Quindi è uno strumento, secondo me, valido per... Da quando ti sei così appassionato di acqua? C'è stato un momento scatenante che ti ha aperto gli occhi sull'acqua che noi diamo appunto per scontata, sia sotto forma di mare per le nostre vacanze, che di doccia la mattina o la sera, che di bottiglia dell'acqua. C'è stato un giorno in cui hai capito che l'acqua è così importante e noi non ce ne rendiamo conto? Nel momento in cui ho cominciato a rispettarla. Molti anni fa ero piccolo al mare, non ho visto più, mi trovavo fra due onde molto grandi, ma ero piccolo, avevo 8 anni. Sei finito sotto? No. Io ho visto queste due onde, una mi copriva la spiaggia e una mi copriva dall'altra parte. Io mi sono trovato praticamente con le onde a destra e a sinistra, non avevo una davanti e una dietro. In quel momento lì ho capito che il mare era molto più grosso di me e quanto necessitava il rispetto. L'acqua era grigia addirittura perché non avrei neanche potuto farlo. Io l'ho fatto lo stesso perché ero scappato in pratica dalle regole. In coscienza del bambino. Sì, assolutamente. Però in quel momento lì si è aperto un mondo in pratica e ho capito quanto poteva essere pericolosa, ma anche quanto è bella, quanto è affascinante, quante cose può dare l'acqua. E quindi da lì è nato questo amore che per me la vacanza è quando c'è l'acqua, soprattutto il mare. E pensare che ancora, tuttora, in tante zone del mondo l'acqua è un bene rarissimo. Ci sono ancora paesi dove l'acqua è l'oro blu, è davvero l'oro blu. Assolutamente, assolutamente. Ce ne sono tanti di questi paesi. E il Nepal è uno di quelli, per esempio, quella zona del Nepal. Senti, per chiudere la nostra chiacchierata, Giorgio, un consiglio non soltanto pratico, ma se vogliamo anche un po' spirituale, su come apprezzare e valorizzare la nostra acqua di tutti i giorni. Io credo che una delle cose più belle che si possa fare è ringraziare la vita. E quindi qualunque momento si ha a che fare con l'acqua, ringraziarla. Sia che io la stia bevendo, che mi serva per lavarmi, o per qualunque altro utilizzo, per innaffiare le piante, ringraziare. Ringraziare la vita, ringraziare l'acqua. E secondo me questa è una delle cose più belle che si possa fare. Che bello, ringraziare l'acqua. Sì. Bello, eh? Ma ringraziare il cibo, ringraziare l'aria, ringraziare ogni mattina che ci si sveglia, che si è vivi, si ha le mani che funzionano, gli occhi che vedono. Quindi non è scontato che ogni mattina mi sveglio e funziona tutto. E quindi ringrazio anche l'acqua che c'è. Valuterò molto la tua parola scontato, che tu detesti quando è legato a qualcosa che si dà appunto per scontato, per sicuro, per certo, quando in realtà non lo è assolutamente. Mi hai aperto un po' la mente su questo. Beh, se pensi che io faccio un lavoro che 20 anni fa, 25 anni fa, dicevo io non potrei mai fare un trattamento a una persona, ma non esiste, io me li faccio fare, ma figura se io vado a fare un lavoro del genere. Adesso vivo di questo, facendo trattamento agli altri. E quindi dare per scontato che uno, che mai, cioè mai dire mai, è proprio una frase che calza a pennette. Mai dire mai. Mai, sì. E niente di scontato, cioè qualunque cosa può essere. E quindi, bello. Grazie. Due, hai ringraziato l'acqua, io ringrazio te. Grazie a Giorgio Cusina. Grazie a voi. L'invito vale sempre. Appena ci sono novità per il libro, appena sarà fresco un'ondata di acqua, dicelo, l'invito è sempre valido. Magari anche insieme al tuo collega Orlando Volpe, con una bella puntata dedicata a tutto quello che è benessere e qualità della vita. Molto, molto benessere. Perché non dobbiamo assolutamente abituarci a stare così così e a convivere. con il dolore, dentro o fuori. Grazie ancora Giorgio Cusin. Grazie a voi. Ci vediamo presto. La pubblicità e dopo la reclama, la rubrica del lunedì, tutti ai fornelli.